Salve a tutti ragazzi e bentornati su TC gameplay, anzi benvenuti su TC gameplay che appunto da oggi cambia il proprio nome. Oggi siamo di nuovo su Team Fortress con... Bella ragazzi, io sono Cimmi Cimmi e sempre come ha detto Alfonso abbiamo cambiato nome del canale perché era difficile trovare il nostro canale tra i canali di Youtube perché appunto Modern Gameplay già era stato scelto da molti. Oggi siamo sulla modalità... Questa qua è la modalità Manpower con i lampini come vi abbiamo spiegato, guardate Alfonso perché sta registrando lui. Sì oggi registro io e qui ci sono le varie classi che l'ultima volta non vi abbiamo fatto vedere. Ah in questa mappa ci sono vari potenziamenti, ad esempio c'è stata la rigenerazione, abilità, velocità eccetera, proprio per avvantaggiarci. Poi con H si usa il rampino per chi non lo sapesse e chi vorrebbe giocare a Team Fortress. Allora ragazzi queste sono le classi, cioè ci sono le classi di attacco, di difesa e di assistenza. Di attacco allora il più veloce è questo qui, il battitore seguito da soldato e poi c'è il Piro, quello che preferiamo io e Cimmi. Poi c'è il demonitore che sarebbe il granatiere, il grosso, il geniere che ha l'abilità di poter fare torrette, dispenser che curano e danno munizioni. Poi c'è il medico, il cecchino e la spia. Io sceglierò il medico. Io già sto giocando, già ho fatto un paio di kill. Allora Allora dai Ci armiamo l'Ubercar Ah in questa mappa non so perché ma appena giochi oppure appena respawni subito ti danno l'Ubercarica per 10 secondi se non erro. Ma in modo, ua grande ingegnere, sa questo rendettore trasporto proprio sotto Ecco questo qui è il rampino ragazzi avete visto come si usa? Io però ho cambiato modalità, al posto di H lo uso con F Non lo so sto in Nel reparto 2 Io al giro non non trovo nessuno Questi qua sono inipendenzionalmente, faglieli vedere Questo qua io ho preso precisione, tu cosa la prendi? Resistenza Resistenza, al medico può essere utile resistenza Ma non vedo nessuno Ma non vedo nessuno Ma nemmeno io La sta la valigetta sta qualcosa Eh C'è il mondo però Infatti Vai Bam Kill Kill Amanza Ancora 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 un medico, un medico a loro, un medico a loro Cazzo 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 no, sennò proprio sono morto, sono morto, ho fatto un morto e sono morto No, è nasciso Perché non me l'ha contato e ucciso me? Non mi piace tanto il medico Cambiamo Allora, uscire il tiro Raga, spero che come avete visto il video di Minecraft vi è piaciuto Però Vi abbiamo una brutta notizia Abbiamo perso, sì Abbiamo perso, sì Purtroppo abbiamo perso i file di salvataggio della partita E saremo ricostretti a creare di nuovo la casa E vabbè Comunque voi non dovete preoccupare perché vi faremo continuare dal punto che già avete visto Direttamente con la casa, però in un'altra, in un altro posto, eh No, vabbè, com'è difficile Raga, ho fatto 5 uccisioni E' stato l'ultimo posto Molto difficile questa mappa, eh, se state, come state notando Questo mi stiamo In media In merda Vabbè, già era in corso la mappa Chi a me è l'improvviso, vabbè Vai, vai, vai Se ne parte parte il mouse, va a cacolo, così Allora, noi adesso Non lo so, non sappiamo più o meno come E quando fare i video Quindi è possibile che non escano Che non esci un video al giorno Molto probabilmente No, no, questo con la spada, no No, no, questo con la spada Cazzo, cazzo è forte L'ho ucciso, che culo Che culo l'ho ucciso Oh, affanculo Kill, kill Come vedete nello schermo di Alfonso Kill No, io non vedo nessuno E' stato tolto Che abbiamo fatto 3 morti Mentre lì Ha fatto 6 Come se Alfonso fa vedere la tab Notate Non mi trovo a usare rampini Il minoio lo sai molto Oh no Cazzo Vabbè ragazzi, penso che cambiamo mappa Perché ci stanno leggermente ammazzando Parla per te Che vuoi fare? Cambi mappa No Allora no Ti sopra io Sennò Troie Non è cooperativo Allora Ma è sotto me Cazzo, cazzo, cazzo Cazzo Nella nostra base Coppia il dispenser Che può creare Ingegnere Perché mi fa più cambiare arma? Mi fa più cambiare arma Con la tallina No, no Clicca No, no Non cambia Che bug Che bug Vabbè, non posso usare lascia fino alla morte Visto che siamo costretti Banzai No Mi hanno cambiato squadra A me Stai con me? Fai dire se posso No, no Mi hanno cambiato squadra Ragazzo Contra Alfonso Ah Oh Sì Sì Lo stanno Non mi vedo Cazzo Mi hanno schiattato Allora Signor Ant Non è che salito con me È morto Grande, fai morti con l'Aisha Ma come ancora non te la fa cambiare Ancora non te la fa cambiare Ma che cazzo però Oh È difficile Mi sto capendo niente Ehi, blu, vincono Oh, cazzo Io ero del blu, però non vale, no Eh, ma no Ah no Dai che non c'è nessuno Vabbè Ma questo fa un broglie Manu Io vorrei del blu è passata di Russia Com'è Non è possibile Mi sembra di aver visto un russi Guardo Sei la mia palla a destra Perché avevo 40 punti vita Mi dispiace Sei la mia palla a destra E non sai Non sai Che va venire Il tamburino non ha Calafo, comanda Oh Che tu Oh, cosa E non vale C'è lo scudo C'è lo scudo C'è lo scudo C'è lo scudo Cazzo Che c'è lo scudo Ragazzi lo scudo Che culo Venga Venga Che me si perdono Venga Che culo Taralfo E allora no E allora no Vincenzo perde C'è lo sa Eh 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 No, no, no Questo è bloccato Mi va laggato Altrimenti Avrei vinto Io sicuro Anche se Avere uno scontro Avvicinato Con un grosso Non è la migliore idea E proprio no Hai trovato Il passo d'uomo Sempre tu Io mai Thank you Ma io sono un tipo Da inventario Bello Vaffan No, voglio vedere Proprio il grosso Che usa il rampino L'uomo L'uomo Non te lo chiamavano No Si Perché no Vaffan qua Tu sei una pacca Ma no Il grosso Non si muove da terra Quando prende il rampino È lentissimo E Venga Venga anche lei Venga A prendersi il perdono Venga Ha 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 No Non l'uccido Non l'uccido Non l'uccido Non l'uccido Non l'uccido No 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 Fuggi 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 Non l'ho ucciso Non l'ho ucciso Non l'ho ucciso Non l'ho ucciso Perché non muore Perché non sai giocare Sto passando Dammi l'uomo Non muore Non scusa Secondo me Ma non l'ho ucciso Vaffanculo Pino di merda Filo di merda No No Cimmi 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 Ragazzi La vendetta Ragazzi scusate Se adesso Vedete tutto a rallentatore Perché c'è Sono il grosso Non che abbia Non so qualcosa Avanti di Non è legno Ops Esci Ah Voi è andato Ecco di Ciao Troione Morto Adesso vediamo Cosa aveva Una beata minchia Avvocato Che Eeeh Bon Cos'è Precisione Eeeh Cosa Ho provato Ho voluto provare la classe Cecchini Ragazzi Perciò stavo in silenzio In silenzio Perché mi stavo Concentratissimo Concentratissimo Non lo trovo Volevo lui Capito Stavo cercando il suo nome Non lo trovavo Potenziale No Questo Bagatissimo Questa mappa Va bene Oh Mi sa Mi sa Stavo 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 Non me ne frega Cazzo Vai Taralpo Punta vita Cazzo Munizioni Punta vita Allora Facciamo ancora classe Attenzione Signore e signori Con il mio Bello Hecchino Hecchino Comunque Vabbè Stava uno Che Mi sa Preso il suo Valenziamento Thank you Thank you Thank you Come si dice In inglese Thank you No non c'è L'americano Thank you Second me Sapere Allora Merda Chi è No Chi è Chi è Chi è Dove sta Troppo debole Il cecchino Infatti In questa mappa Perché usano i rampini È difficile Eh Subito raggiungo Nei punti Che potrebbe Spare Fanculo Tecnico di merda Sì Cimmi Cimmi Qualche vittima Sacrificale Ui Ui I blue vincono Perché Chi Cazzo 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 Fuggì Grazie I Cazzo Ti voglio Bene Sì Non ci trovavamo più So qui Eh giura Da quando ti ho ucciso L'ultima volta Si è passato Nei rossi Allora ragazzi Ritorniamo insieme Allora Alfonso Perché Non lo so Era più bella La sfida Comunque No Tutto Ma No Storampino Allora Sare No Io mi sono imparato Non Non No Sare La prossima partita Uh bella città ragazzi La prossima partita Niente mai baule La prossima partita Facciamo Wow Corsa dei carrelli Raga ho fatto Ho puntato una con il Piro Mi ha rimpito di fiamme Lui mi ha dato una botta Non so di che cosa Ma perché Mi ha ucciso Troia Non è possibile Sto fatto Dai Ma perché Sto la gop Non ci riesco Ragazzi Sono un geniaccio Ad esare il Piro Sono un genio Ma questo Quello ha trovato Dove stanno tutti i nostri Perché Ho deciso Odio Odio me In power Come erano E infatti Non è Una bella modalità Vaffanculo La vendetta Di cimi cimi Ragazzi La vendetta Di cimi cimi Ragazzi Devo caricare Cazzo Mi hanno fatto fuori Sei sempre nei rossi Tu Sì Dai dai Obiettivo 5 Siamo a 0 Guardi blu No Ah Sono rotto il cazzo Il Piro Il Piro Il meglio il Piro In questa mappa Bestemmia Adesso lancio una bestemmia Rivolta a tutti quelli che abitano nel Vaticano Annaccio Vaticano Annaccio Vaticano Vai Dove stai a fuori Io sui tetti ad ammazzare i cecchini Tu Io a prendere Mira grosso Io e la torretta Siamo ammazzati grosso Però il grosso Uh abbiamo vinto No 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 C'ha il Il potenziamento Ah perciò prima non ti ha fatto cambiare Non ti ha fatto cambiare l'arma Non era un bug Avevi preso il potenziamento Dove è andato Dove è andato Non lo vedo Avevi preso il potenziamento Sto prendendo ammazzate da tutti i lati Capi? Perciò prima non ti faceva cambiare l'arma Io sto prendendo ammazzate da tutti i lati E io adesso sto cercando una cura Sono rimasto con 44 punti C'è un dispenser qua Dove? Qua dietro Dietro la palazzo Io sto affiancattime Sono passato adesso Dietro questo palazzino Guarda la mia mensuale Guarda la mia mensuale Dietro questo Dietro questo E' bravo Oh madonna Dispenser thank you dispenser Dove è andato? Ah ti ho visto pezzo di mun Surprise mother fucker Come è andato? Nella volta Oh Ma vaffanculo La cicis vendetta Oh vaffanculo Vaffanculo Venga cecchino Venga Vaffanculo Vediamo questo potenzamento Che non sa cosa sia Hai già un potenzamento Sto prendendo da te Madonna 2 2 Meno 1 1 Meno 2 So condi 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 Dai nooo Dai nooo È rimasto con Buon 90 punti di vita Capitano Tutte cose Probabilmente Le dava la resistenza Qui bastardo Nooo Nooo Ho raggiù Ma come Ma come Ma come Ma Andate all'inferno Brutti pezzi Dove stai Nooo Dove stai Dove stai Nooo Mi hanno fatto un bov Si sono a farsi l'estellina in testa Adesso andiamo di grosso Di danno è un grosso con due colpi Viglia Fuori Dove è andato? Non lo so ma ho fatto una kill No 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 Si è scanzato Ho preso alla cura Cazzo Cazzo Come ha fatto Bordella Minchia zio bordello Minchia zio bordello Ah ecco Hai la rigenerazione Mi stanno facendo Mi stanno facendo Del male fisico Da te Non mi neanche Ragazzi Scusate che non sappiamo Proprio giocare in questa mappa Come è stata notata Scusate che non sappiamo Rosso di merda L'hai ucciso a fo Come la fanno Viglia 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 Muoia grazie No No dove andava? Si era fissuto di là Di là dove? No lo so ma l'ho ucciso L'hai ucciso? Quella roba zucca Dio io Eh se no Spain Durando si chiama L'ho ucciso L'ha inseguito Ho un potenzialamento Rigenerazione Rosso di merda Si ragazzi Prefire Qua 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 Sono morto io Il grosso è ferito Morto Si guardaci Mi c'è un tarallo Ti dore no Lo perderemo Mi c'è Ma è scomparso Uff No no Alla cura No sono morto Mi stai Non è succa Mannaggia Tu che curare Allo scudo Non ti vede Sono morto Oh Sono morto L'ho finata l'ubercaica L'ho visto Dai Cazzo dai Sto basta No Spie Attento alle spie Dove Eh dove No Dove è andata No questa mappa La gana Accidente Questa maffanculo Bimbo di me No No Madonna Cazzo 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 40 punti vita No Bene ragazzi Direi che per oggi è abbastanza Vi saluto a tutti Qui è tutto da TcGameplay Da Taralfo Cimbi cimbi Bella ragazzi Al prossimo video Il prossimo video sarà Sicuramente su minecraft Oppure ottobalpool Ci vedremo Al prossimo video Bella Al prossimo video